da parte di noi parlamentari di grande sensibilità e di grande rispetto nei confronti di stanze vere del mondo della scuola. Grazie. Sì, come lei ben sa c'è un calendario che è stato approvato dalla conferenza dei capigruppo, poi ovviamente se c'è l'intesa, ma questo non lo deve stabilire la Presidenza in questo momento, se c'è l'intesa tra i gruppi per delle sospensioni pomeridiane, queste sono questioni che poi con i capigruppo e i delegati d'Aula potete risolvere o addirittura chiedere alla Presidenza una capigruppo per variare il calendario. Detto questo io inizierei, chiedo alla relatrice i pareri sugli emendamenti all'articolo 1. Se per lei va bene glieli chiamo io perché alcuni non sono segnalati e quindi non c'è bisogno... Ma io faccio presto, Presidente, tutti i contrari. Invito a ritiro tutti i contrari. Va bene. Il Governo? Il Governo è conforme. I relatori di minoranza di Pannarale. Prego. Gli richiamo io questi qua? Sì, grazie. Va bene. Allora, 1.9 centemero ed altri. Contrario. 1.12 centemero ed altri. Contrario. 1.13 gelmini. Contrario. 1.17 chimienti. Favorevole. C'è anche l'1.500 della Commissione. Contrario. 1.22 gigli ed altri. Favorevole. 1.23 vezzali. Mi rimetto all'aula. Poi. 1.30 centemero. Contrario. 1.31 centemero. Contrario. 1.32 centemero. Contrario. 1.33 centemero. Contrario. 1.36 centemero. Contrario. 1.37 centemero. Contrario. 1.39 gigli. Grazie.